La primavera La primavera Buonasera, buonasera cari telespettatori e telespettatrici. Grazie come sempre per aver scelto l'informazione di Telefriuli, l'augurio di una buona settimana. Proroga di due mesi dell'apertura al traffico e poi dopo i lavori di riqualificazione, ritorno della zona a traffico limitato. La giunta comunale di Udine ha deciso il futuro di via Mercato Vecchio. Proroga dell'apertura al traffico ma fino all'apertura del cantiere. Poi a lavori conclusi tornerà la ZTL. E questo è il futuro che attende via Mercato Vecchio che tra dieci giorni vedrà la fine della sperimentazione dell'apertura indiscriminata alle auto. La giunta comunale ha infatti deciso di prolungare i termini per le auto in centro ma solo per non causare ulteriori disagi. Entro primavera infatti arriveranno Ruspe ed Operai per dare un volto nuovo alla più centrale delle vie di Udine. Adesso stiamo chiudendo il discorso con la sovretendenza che ci dà l'ok nell'utilizzare la via almeno in parte come Porfido che ci permette di far passare i mezzi di soccorso, le ambulanze, i vigili del fuoco ma soprattutto anche chi deve allestire i mercatini e quant'altro. Quindi questa parte di Porfido è molto importante, la sovretendenza dovrebbe darci l'ok e rimane poi il discorso delle due dita che devono iniziare i lavori che penso, spero che inizio primavera dovremmo iniziarli. L'obiettivo sarebbe finire prima di Natale sia via Mercato Vecchio che via Aquileia. Alla fine dei lavori quindi stoppa le auto in centro perché questi sei mesi di sperimentazione non hanno cambiato la situazione iniziale. La sperimentazione come si prevedeva non è che abbia stravolto il mondo, ha avuto un passaggio maggiore di auto, un po' anche di attività hanno ripreso a girare un po' di più. Non c'è stato certamente quel boom né sul traffico né sull'utilizzo della strada per altri fini. Positiva la replica del Presidente del Comitato autostoppisti Ivano Marchiol. Se alle parole della Giunta, dice Marchiol, promotore del referendum sul futuro delle auto in centro, seguiranno fatti, allora saremo contenti. Il nostro obiettivo è non vedere più auto in centro ma che la sperimentazione fallisse, conclude. Il Presidente era già scritto. Se alla volontà del Comune seguono atti concreti, siamo molto fiduciosi su questo futuro di Via Mercato Vecchio. Risponde positivamente alla decisione della Giunta di tornare alla ZTL nel centro cittadino, al termine dei lavori, il portavoce del Comitato autostoppisti Ivano Marchiol, promotore della raccolta firme per il referendum sul futuro delle auto a Udine. In passato ci sono state azioni contrastanti compiute da questa Giunta, continuo Marchiol. Quindi aspettiamo i fatti dopo le parole per esprimere un giudizio completamente positivo. Ma che la sperimentazione si rivelasse un fallimento era già scritto. In tutti i casi simili compiuti da altre città si è sempre deciso di tornare alla chiusura del centro alle auto. Ora noi, conclude il Presidente del Comitato, abbiamo chiesto due cose alla attuale Giunta. La prima è che le auto stiano fuori dal centro e la seconda è che si cominci a ragionare sulla realtà del traffico cittadino, ovvero sulle linee guida della mobilità sostenibile, in modo da andare in avanti e non compiere passi indietro. Noi siamo, spiega infine Marchiol, favorevoli e dialoganti con la Giunta, perché si arrivi in qualsiasi modo alla chiusura del centro alle automobili. Tragedia a Rivignano questa mattina dove un uomo è stato trovato senza vita in una pozza di sangue, in una stanza della sua abitazione dove viveva solo. Si tratta di Benvenuto Pigin, 72 anni, inutili i soccorsi del personale medico sul posto, sono intervenuti i carabinieri di Rivignano e del Nord della compagnia di Latisana per tutti gli accertamenti. L'abitazione del pensionato è stata posta sotto sequestro per dar modo agli inquirenti di eseguire le verifiche del caso. Alcune tracce di sangue non sono chiare, vanno approfondite. Al momento si propende comunque per l'ipotesi del decesso per cause naturali, e quindi per un malore o per una caduta fatale. L'esame autottico farà definitiva chiarezza. Aggredito e brutalmente picchiato per aver chiesto a quattro giovani di non costruire il passo Carraio, sul quale voleva passare con l'auto per entrare nel proprio cortile di casa. È successo a un venezuelano a Spilimbergo. Lo scorso dicembre ora i carabinieri hanno identificato i responsabili dell'aggressione. Si tratta di tre giovani stranieri e di un ragazzo di 17 anni che sono stati denunciati in stato di libertà alla magistratura. Incidente stradale tra Carnia di Venzone e Moggio Udinese. Lungo la statale 13 questa mattina, poco dopo le 7, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Fiat Punto che viaggiava in direzione Udine-Namazza diretta invece a nord, si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto entrambi i conducenti sono rimasti feriti, soccorsi dall'equip medica di un'ambulanza e dell'elicottero. Il conducente della Fiat era rimasto incastrato ed è stato liberato dai vigili del fuoco di Gemona. È stato trasportato in volo all'ospedale di Udine. Ed è stato arrestato a Granarolo in Emilia-Romagna al quarto componente della banda che aveva svaliggiato a ottobre un negozio a Pordenone. Con i complici aveva svaliggiato il negozio Nappapiri in centro a Pordenone e lui era sfuggito alla cattura, arrestato nel bolognese il quarto uomo della banda. È terminata la fuga di Tibor Edward Simon, rumeno di 30 anni, che nella notte tra il primo e il 2 ottobre 2018 aveva messo a segno, assieme a due uomini e una donna, della stessa nazionalità, il colpo nel negozio di abbigliamento in corso Vittorio Emanuele, gestito dai fratelli Fioretti. La stessa mattina il personale della questura pordenonese aveva rintracciato i quattro in un ostello di San Vito al Tagliamento e catturato tre componenti della banda, oltre a recuperare l'intera refurtiva del valore di circa 60.000 euro, poi restituita ai proprietari del negozio. Il quarto uomo, però, era riuscito a scappare lanciandosi dalla finestra al primo piano, a quattro metri d'altezza e dileguandosi. La squadra mobile di Pordenone aveva poi identificato il fuggitivo, che aveva precedenti per furto in Italia ed era già stato espulso nel 2016 dal prefetto di Piacenza. Il PM Federico Baldo aveva quindi chiesto ottenuto dal GIP un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e il mandato di arresto europeo. L'uomo è stato fermato ieri pomeriggio dai carabinieri di Granarolo dell'Emilia, dopo il furto in una profumeria di otto confezioni di prodotti del valore di 800 euro. Dopo averlo identificato, gli uomini dell'arma hanno eseguito l'ordine di custodia cautelare e portato il trentenne in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Furibonda lite tra ex attarcento. Lei finisce in ospedale e lui in carcere. Le notizie di cronaca in pillole. Si reca a casa del suo ex per recuperare alcune cose dopo la fine della relazione viene presa a botte. Tragico epilogo di una storia d'amore a Tarcento dove un 43enne del posto all'arrivo della sua ex ha prima distrutto la casa spaccando mobili ed elettrodomestici e poi si è scagliato sulla donna picchiandola con calci e pugni. Sul posto, chiamati dai vicini, sono arrivati i carabinieri della radiomobile che hanno fermato l'uomo e chiamato l'ambulanza per la donna che se la caverà con 10 giorni di prognosi. L'uomo violento è stato arrestato per maltrattamenti nei confronti della convivente. Le guardie giurate del corpo vigili notturni hanno soccorso questa notte una giovane donna straniera nella zona di Borgo, stazione a Udine, in via Foscolo. Erano da poco passate le 23 quando i vigilantes, impegnati in un servizio di monitoraggio e controllo, l'hanno notata sanguinante a terra. La ragazza, 22 anni, che vive a Udine, ha detto di essere stata aggredita da tre persone. Il gruppo di malviventi, che ha descritto come stranieri, le hanno rubato la borsa della spesa e la borsetta contenente 200 euro in contanti. Sul posto è intervenuta un'ambulanza che ha portato la giovane all'ospedale sul caso indagano i carabinieri di Udine. Vuole bere l'ultimo bicchiere della serata, nonostante sia già ubriache, al rifiuto del barista comincia a insultarlo e aggredire i presenti. A Paluzza è stato necessario l'intervento dei carabinieri per l'agitazione di una 44enne del posto che all'arrivo dei militari stava ancora in vendo contro il barista, minacciandolo dall'altra parte del bancone. I carabinieri delle stazioni di Vila Santina e Comiglia s'hanno immobilizzato la donna, che cercava di colpirli a calci e pugni e è stata poi trasportata in carcere. Dovrà rispondere di minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Torna anche quest'anno la truffa più classica della stagione fredda, quella delle arance. A caderci è stato qualche giorno fa un pensionato di Cividale che ha sporto denunce ai carabinieri. Come funzionerà a giro? Un uomo si avvicina alla sua vittima per strada a bordo di un auto o di un furgone. Dell'abitacolo mostra le cassette di arance, decantandole le qualità. Propore l'acquisto e offre un buon prezzo. Ma è un inganno quando la vittima estrae il portafoglio per pagare le arance, il mavivente glielo strappa e scappa con l'aiuto di un complice. Nel caso di Cividale, la vittima è anche caduta a terra, ha riportato delle scoriazioni alle mani. Ha segnalato il mezzo su cui viaggiavano i 2020, un Fiat Dobblò bianco. A Udine l'amministrazione ha avviato questa mattina lavori nel parcheggio di Via del Vascello dopo le segnalazioni di atti vandalici e microcriminalità, ma scoppia la polemica politica. A Udine scoppia una nuova polemica. Da questa mattina, infatti, nel parcheggio di Via del Vascello sono iniziati i lavori voluti dall'amministrazione dopo gli ultimi episodi di vandalismo. Nel corso degli ultimi anni, spiega il vice sindaco Loris Michelini, si sono verificati atti vandalici e sono state segnalate microcriminalità, spaccio e prostituzione. Visto l'aumento esponenziale di questi fenomeni e considerata anche l'anzianità della struttura, la Giunta, in accordo con sistema Sosta e Mobilità, ha deciso di sospendere l'uso del primo piano, modificando anche i parcheggi eraso delle vie adiacenti per prevenire un utilizzo scorretto della sosta. I lavori, spiega ancora Michelini, puntano alla conversione del parcheggio con sistema barriera e saranno completati entro la fine di gennaio, in attesa del nuovo intervento progettuale di riqualificazione dell'intera area. La chiusura, precisa ancora il vice sindaco, comporterà una riduzione della capienza complessiva della struttura di circa 120 posti auto, ma l'amministrazione punta anche a valorizzare il parcheggio di Via dell'Europa Unita, circa 130 posti, attualmente poco utilizzato. La decisione ha suscitato immediatamente le reazioni dell'opposizione. Fatemi capire, scrive l'ex assessore comunale Alessandro Venanzi su Facebook. In un parcheggio di proprietà del comune, a 50 metri dalla stazione, realizzano un furto per il quale ci vuole almeno mezz'ora di tempo. E allora, cosa si fa per dare una risposta a chi giustamente mostra preoccupazione? Si chiude l'accesso all'ultimo piano e si rendono tutti i parcheggi dell'area a pagamento. Ma non doveva cambiare tutto con i vigilantes e ritorno dei vigili in capo al comune, conclude Venanzi. I militari del nucleo radiomobile di Udine hanno denunciato per guida in stato Debrezza un 23enne udinese che, mentre percorreva Piazzale Gabriele D'Annunzio, alla guida della sua auto, ha perso il controllo ed è andato a sbattere contro l'aiuola a sparti traffico, danneggiando la segnaletica stradale. La macchina è stata sottoposta a fermo amministrativo, mentre al giovane è stata ritirata la patente. A grado di Lignano, lo avete sentito dai titoli, la stagione estiva è a rischio. Nella legge di stabilità sono stati tagliati i fondi per i grandi eventi. I sindaci lanciano l'allarme e sperano che la Giunta ci ripensi. La legge di stabilità 2019 ha zerato le risorse per gli eventi turistici di Grado e Lignano e la promozione dell'attività estiva si annuncia in salita. La denuncia è arrivata dai consiglieri del PD Sergio Bolzonello e Maria Grazia Santoro. Tra un paio di mesi partirà la stagione e si iniziano a vedere le prime conseguenze dei tagli alle attività produttive. 700.000 euro che avevamo denunciato durante il dibattito in aula. Sono soldi sui quali le amministrazioni contavano all'interno della loro programmazione e che ora vengono a mancare. Cosa succederà? Allarme raccolto e rilanciato anche dai sindaci. I soldi a bilancio non ci sono conferma il primo cittadino di Lignano Luca Fanotto. Il problema è che la pianificazione dell'estate si fa da una stagione all'altra e noi facevamo affidamento su quei fondi. La speranza quindi è che possono essere ripristinati quanto prima conclude Fanotto. Analoga preoccupazione arriva da Grado. Mercoledì avremo un incontro con l'assessore Sargio Bini per capire se si riuscirà a trovare una soluzione. Spiega il sindaco Dario Raunia se così non fosse ci saranno ovviamente ripercussioni perché il lavoro di pianificazione è iniziato da tempo. Spiace consata Raunia che la giunta non abbia mantenuto quanto di buono era stato fatto dalla precedente amministrazione anche perché meno eventi significa meno turismo e quindi meno presenze e meno posti di lavoro. Non si può confondere poi i finanziamenti regionali con le entrate della tassa di soggiorno che prevedono un utilizzo esclusivamente per infrastrutture e promozione del territorio e non possono essere usate per i grandi eventi. Dalla Lega con i consiglieri regionali Mauro Bordin e Diego Bernardis sono arrivate le prime rassicurazioni. L'impegno di Icono è massimo per supportare le iniziative di Grado e Legnano. Gli uffici sono già stati allertati e gli stanziamenti necessari a garantire la corretta programmazione degli eventi vanno confermati e ripinguati. Non resta insomma che attendere. Nessuna novità ancora sulla vertenza che da fine dicembre interessa al gruppo Kipre. Sale la preoccupazione specialmente dopo l'annullamento del primo incontro fissato tra regione e proprietà che avrebbe dovuto tenersi all'inizio della scorsa settimana. Domani sera alle 20 nella sede della CGL di Udine si tratterà un'assemblea aperta per la questione principe. È stato invitato anche l'assessore regionale Bini. Sarà l'occasione per fare il punto della situazione e decidere come muoverci nei prossimi giorni spiega la sindacalista Michela Martin della CGL. La visita non annunciata di Riccardi e Mazzolini a Dovaro scatena la polemica politica. Al sindaco Beorchia replica mi sono sentita umiliata come donna e amministratore. Dopo i danni la polemica. Il sindaco di Ovaro Mara Beorchia commenta con sconforto la visita non annunciata del vicepresidente della regione Riccardo Riccardi e del vicepresidente del consiglio Stefano Mazzolini accompagnata dalle durissime parole di quest'ultimo che in un post su Facebook ha dichiarato Siamo venuti qui per chiarire la situazione del ponte di San Martino i soldi già ci sono e i lavori verranno fatti non accettiamo strumentalizzazioni del PD di Marsilio e del sindaco Beorchia in vista delle prossime comunali basta prendere in giro le persone conclude Mazzolini frasi che hanno lasciato il segno sinceramente da una carica istituzionale mi aspetterai un rispetto diverso nei confronti di un primo cittadino spiega Beorchia mi sono sentita umiliata anche perché mi sono chiesta se al mio posto ci fosse stato un uomo Mazzolini avrebbe usato la stessa arroganza oltre a queste dichiarazioni gravissime perché fanno passare il messaggio che chi amministra il territorio non conta ed è giusto così resta anche il fatto che a una mia richiesta di incontro non ho ricevuto risposta prosegue Beorchia e sono venuta a sapere dopo della visita della quale non ero stata informata anche questo è molto grave mi consola solo il fatto che ho ricevuto molti messaggi di solidarietà non solo da varo ma conclude il sindaco resta l'amarezza per un atteggiamento che in democrazia non dovrebbe essere accettabile dal 22 gennaio nel sistema di prenotazione sanitaria regionale col center cub farmacie e sportelli delle strutture operative entrerà in vigore il blocco della validità dell'impegnativa che prevede che le prescrizioni con priorità B siano utilizzate per la prenotazione entro 4 giorni le aziende sanitarie raccomandano agli assistiti in possesso di un'impegnativa con indicazione della priorità di utilizzarla prima della scadenza della validità per evitare di dover chiedere al medico una nuova ricetta le exporte del Friuli Venezia Giulia pesa sull'economia locale tre volte rispetto alla media italiana e quindi presidiare crescite sui mercati esteri è fondamentale per il nostro sistema produttivo va in questa direzione l'accordo che la neonata federazione dell'industriale friulani composta da Confindustria Udine con FAPI e FWG hanno sottoscritto oggi con SACE e SIMEST ovvero il polo controllato da cassa depositi e prestiti specializzato nell'accompagnare e assistere le imprese nel processo di internazionalizzazione abbiamo voluto stare ancora più vicino alle nostre imprese e aprire il primo SACE point della regione inizialmente in Confindustria Udine e successivamente anche in Confapi FWG questo per spiegare quelli che sono gli strumenti che SACE e SIMEST mettono a disposizione per supportare l'internazionalizzazione per supportare l'export e quindi per far sì che questo che è il nostro punto di forza ed è ciò che tiene in piedi la crescita della nostra provincia della nostra regione possa incrementare sempre di più la presenza qui vuole essere una vicinanza fisica con degli strumenti adatti alla piccola e media impresa che ha bisogno di crescere all'estero in maniera più dinamica e sfruttare tutte le opportunità di finanziamenti agevolati che possono ottenere appunto dal gruppo Cassa Depositi e Prestiti di supporto dal punto di vista patrimoniale e finanziario della crescita all'estero ma gestendo i rischi che si nascondono dietro le opportunità commerciali e siccome rappresentiamo insieme l'industria le problematiche che l'industria ci pone porsi insieme per affrontare insieme le problematiche dell'industria può avere un percorso migliore sempre a vantaggio delle imprese associate dopo dieci anni arriva il via libera del governo ai lavori di dragaggio del porto di Monfalcone il porto di Monfalcone cambia passo e con un investimento di 16 milioni di euro avvia la procedura per i dragaggi l'obiettivo è arrivare entro due anni a fondali di 12 metri e mezzo una profondità che potrà consentire l'attracco anche a navi di grandi dimensioni il via libera ai lavori di scavo dopo dieci anni di attesa è una procedura molto complessa è arrivato dal ministero dell'ambiente ed è stato ufficializzato oggi dall'assessore Graziano Pizzimenti alla giunta regionale riunita a Ronchi dei legionari l'operazione comporterà l'escavo di circa 900 mila metri cubi di materiale che saranno sistemati in una cassa di colmata all'ISERT il via libera alla validazione definitiva del progetto è previsto entro la fine del mese la gara per l'affidamento dei lavori dovrebbe essere bandita entro marzo ma quali saranno le ricadute di un'opera di questa portata? è una ricaduta fondamentale per lo sviluppo di Buon Falcone perché vuol dire portare navi più grandi quindi vuol dire economia di scala vuol dire traffici internazionali diversi vuol dire anche un lavoro da 16 milioni di euro quindi anche sul territorio vengono spese 16 milioni di euro quindi mi pare tutto va a buon fine e va in una direzione giusta con il conferimento dell'incarico agli 81 consiglieri saranno operativi da mercoledì i consigli di quartiere saranno operativi a partire da mercoledì i consigli di quartiere voluti dalla giunta Fontanini per avvicinare le periferie alla gestione della città 9 quartieri con 9 consiglieri ciascuno per un totale di 81 volontari che potranno proporre per voce del presidente del consiglio di quartiere progetti e iniziative nelle singole zone della città i consigli di quartiere potranno presentare dei progetti di loro elaborazione e di loro iniziativa riguardanti appunto il loro territorio saranno presentati al sindaco e una volta approvati gestiti dai relativi uffici quindi nella specificità anche della necessità amministrativa di seguire le varie proposte e potranno interagire poi i consigli di quartiere tramite i loro presidenti sia con la popolazione a livello di assemblee di raccolta di petizioni di raccolta di iniziative varie con la popolazione sia con l'amministrazione comunale con la giunta con il consiglio comunale oltre che naturalmente con il sindaco mercoledì gli 81 consiglieri riceveranno dalle mani del sindaco Fontanini il mandato e potranno subito riunirsi nelle loro sedi di quartiere per eleggere il presidente l'aula 3 del polo giuridico economico dell'università di Udine è stata intitolata alla memoria di Marzio Strassoldo per quasi 10 anni dal 1992 al 2001 ha ricoperto la carica direttore dell'università di Udine contribuendo a far crescere il polo universitario a Marzio Strassoldo scomparso nel 2017 è stata dedicata a una delle aule più grandi del polo giuridico economico di Via Tomadini l'aula 3 con l'intitolazione ufficiale uomo che fece crescere l'università di Udine in maniera determinante e amò sempre questa istituzione che è fondamentale per la cresta del Friuli tra l'altro gli ultimi suoi lavori hanno riguardato proprio l'identità friulana attraverso la lingua la difesa della nostra lingua è stato un uomo molto funzionale come si direbbe usando termini marxisti alla causa friulana una grave perdita averlo la sua mancanza in questo momento ancora delicato per quanto riguarda la vita e la crescita della nostra identità friulana all'intitolazione erano presenti oltre al sindaco Fontanini il rettore Alberto Detoni il vicepresidente del consiglio regionale Francesco Russo il direttore del dipartimento di scienze economiche e statistiche Andrea Garlatti e il professor Raimondo Strassoldo fratello dell'ex rettore ed ex presidente della provincia di Udine due nuove date per il Jova Beach Party la grande novità dell'estate 2019 a seguito della clamorosa richiesta Trident annuncia due nuovi appuntamenti uno a Lignano Sabbiadoro e uno a Viareggio il Jova Beach Party debuterà come previsto il 6 luglio a Lignano Sabbiadoro e tornerà per un secondo appuntamento sulla spiaggia Belitalia il 28 agosto un successo clamoroso che rappresenta l'entusiasmo per una proposta che porta l'esperienza collettiva di una giornata di mare, musica e divertimento al centro dell'estate 2019 dalle ore 15 di mercoledì 23 gennaio sarà disponibile sul circuito Ticket One la preventa dei due nuovi appuntamenti biglietto unico 52 euro più pre vendita i bambini che non hanno ancora compiuto 8 anni potranno accedere al Jova Beach Party con un titolo di ingresso gratuito un'opera popolare parliamo del Nabucco la terza opera di Giuseppe Verdi che sta andando in scena appunto al Teatro Verdi di Trieste famosa per il suo Va Pensiero verrà rappresentata al Teatro Giovanni D'Audine sabato primo e due febbraio abbiamo sentito il sovraintendente Stefano Pacce vediamo il servizio una stagione lirica che si è aperta a novembre con i puritani mentre adesso appunto va in scena il Nabucco che tipo di opera è e perché è così popolare? ma è un'opera veramente iconica di Giuseppe Verdi intanto perché il Va Pensiero è diventato quasi il secondo himno d'Italia ed è conosciuto e conosciutissimo da tutti è un'opera molto forte è un'opera musicalmente impressionante con una partecipazione del coro per tutto lo spettacolo che ne fa veramente un'opera molto spessa molto solida con dei valori che toccano proprio i sentimenti del pubblico è una perfetta rappresentazione di quello che Verdi assieme ad altre opere come Traviata o Rigoletto o Noncarlo come ogni lunedì alle 21 appuntamento con Bianconero linea subito a Francesca Spangaro per qualche anticipazione sulla puntata di questa sera Buonasera Daniele ancora con il mercato aperto quindi aggiornamenti anche sui prossimi obiettivi dell'Udinese con Nicola che ha dichiarato come ovviamente la sua non sia ancora al completo dopo la sconfitta contro il Parma un girone di ritorno che è iniziato quindi non nel migliore dei modi abbiamo sentito l'esperto di mercato di gazzetta Carlo Laudisa dice problema più tattico per l'Udinese piuttosto che di qualità anche se forse serve qualche elemento di esperienza e poi sentiremo anche l'ex storico capitano Bianconero Alessandro Calori il nuovo tecnico della Ternana in studio il mister Massimo Giacomini Bruno Pizzola Andrea Iome Paolo Matrecano e Monica Tosolini a questa sera con Bianconero dalle 21 a te Grazie Francesca e quindi insomma rimanete pure tranquillamente sull'11 e così seguirete i programmi a seguire dopo il telegiornale ovviamente alle 21 Bianconero il nostro Gian Domenico Ricci è pronto anzi prontissimo per mandare la sigla di chiusura arrivederci e buona settimana ancora Grazie a tutti Grazie.